Grazie Francesco, in volontà di Presidente della Commissione segnalo che chiunque in questa sala può fare domande e però è l'onere di farti la prima domanda. Ti chiedo di andare indietro sulle tue conclusioni e tenerle lì perché ci danno una guida sul rapporto che c'è tra l'intento iniziale e i risultati. Io comincio con una domanda un pochino tecnica che però rimanda al contenuto idrologico delle applicazioni ed è, ti chiederei di spiegarci in maniera un pochino più divulgativa come si operano le parallelizzazioni lungo la rete nell'ambito di quei processi che oggettivamente sono seriali fra di loro, cioè il flusso idrico. Non è una domanda legata alla qualità dell'implementazione software ma anche alla modalità con la quale il tuo lavoro possa essere compreso da le service delivery organizations. Certo, allora per quanto riguarda la parallelizzazione di per sé, pensando all'esempio di Maria Laura, che ha sviluppato Maria Laura. Quello che si può fare è che ogni HRU può avere una relazione sola con un HRU value, può avere più, ok, un HRU connesso. Di conseguenza quello che bisogna fare è che ovviamente le connessioni vanno descritte. Una volta che le connessioni vengono descritte, poi il sistema essendo un sistema grafo, il modellista, il ricercatore non deve pensare a questo. Una volta che ha in mente qual è il suo schema, quindi vuole connettere l'HRU in quel determinato modo, perché quello è il modello che vuole fare, non deve pensare ad altro. Le connette ed è il sistema che fa tutto. E questa è la cosa bella, questa è la flessibilità. poter utilizzare grossi computer, quindi computer cluster, senza dover pensare come faccio a parallelizzare questo. Questo è diciamo lato utente, lato comprensione, quindi diciamo commissione di esame finale e dottorale. Uno vorrebbe capire come si riesce ad avere una riduzione dei tempi dal momento che certe connessioni sono oggettivamente di tipo seriale. Certo. Cioè riesci più o meno a farcelo capire? In quel caso lì non può esserci alcun vantaggio, nel senso che essendo sequenziale non ci può essere alcun vantaggio, ma non c'è decisamente. Sul piano computazionale, quindi è oggettivamente una grande semplificazione dal punto di vista della costruzione. Dopodiché l'aspetto della riduzione del costo computazionale, che per lo meno nel testo è stato decisamente sottolineato, riguarda per esempio le componenti di applicazione SWIM. E vorrei che tu proponessi una, diciamo così, revisione critica di qual è il rapporto che una organizzazione, quindi ancora una volta lo vedo da questo punto di vista, possa intravedere tra i costi di inserimento dati o comunque setup. e quello che può invece essere il vantaggio dal punto di vista computazionale. Con un esempio legato esattamente con riferimento ai tuoi esempi. Cioè, perché il setup normalmente ha un suo, diciamo, valore... È una parte molto importante e molto lunga, decisamente. Quello, da un punto di vista di setup, quello che stiamo cercando di fare, allora... Per quanto riguarda NetTree, ok, i dati da preparare sono comunque spazializzati, distribuiti, vanno preparati accuratamente per quella specifica soluzione modellistica. Quello che possiamo fare noi come grafo è, se abbiamo soluzioni modellistiche uguali in almeno, parlo di HRU in montagna, ok? Possiamo far sì che quella parte di DSL venga scritta una volta sola, quel set di parametri venga scritto una volta sola, ed eventualmente sia ancora una volta l'incapsulamento di dati e soluzioni modellistiche. Quindi, volendo modificare tutte le parti di montagna, vado a lavorare lì, solamente lì. E quindi questo già semplifica un po' il numero di parametri che il modellista deve modificare per lanciare la sua simulazione. E questo è quello che stiamo facendo con Daniele. Quindi stiamo, mano a mano, vedendo anche come la miglior strategia per semplificare questa parte qua. Per quanto riguarda, invece, i modelli surrogati, ok? Volendo semplificare il numero di parametri, lì bisogna al momento praticamente basarsi sulla conoscenza del ricercatore. Che è l'unico che può dire, ok, da un'analisi sensitivity analysis si può capire quali sono i parametri più rilevanti per il modello per cercare di utilizzare solo quei parametri lì per emulare quella di specifica parte del modello. Questo è quello che si può fare in queste due parti. Però sarà ancora il ricercatore, la conoscenza del modellista. Posso assingere su questo? Io, leggendo la Tadesi sulla parte della paralizzazione implicita, avevo una percezione un attimo diversa, quindi volevo essere sicuro. Cioè che la paralizzazione implicita in qualche modo nascesse dalla studio del grafo, cioè di come le cose sono cannesse, e che quindi in qualche modo se ci fosse delle infrastrutture un particolare coro, un CPU, potesse gestire tre connessioni, ad esempio l'hydropower, mentre un'altra parte poteva gestire tre sottobacini. Quindi in qualche modo era direttamente questa paralizzazione implicita che poteva migliorare il fatto di avere elementi seriali che in alcuni casi devi obbligatoriamente rispondere. Questo è quello che io ho percepito leggendo, cioè che non ci fosse in realtà un vincolo, ma che fosse questa la capacità aggiuntiva. Ho interpretato male? No, 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 è giusto. Quindi secondo me questo in parte rispondo alla domanda del professore. Detto questo però, questo secondo me implica anche una perdita di tempo nella comunicazione, perché tutta questa struttura di connessione di grafi orientati implica che tanti nodi devono fra di loro comunicare. E tu a un certo punto hai sostanzialmente detto che bisognerebbe fare testi di scalabilità e si guadagna tempo computazionale, ma non c'è un esempio che fa vedere come questo approccio sia magari meglio di un tree based. Quindi volevo che commentassi su questo. Cioè, come facciamo poi anche a scalarlo su macchine grande? Come facciamo ad essere sicuri che questo approccio implicito sia migliore di un approccio direttamente tree based che magari fa tutta la parallelizzazione del 10 riu e poi ovviamente perde un po' di tempo nella sediarità degli elementi. Cioè, come facciamo a poi commentare su questo? Certo. Allora, per quanto riguarda la scalabilità, la scalabilità è proprio un modo diverso di implementare il grafo. Quindi devo ripensare tutta la parte di parallelizzazione perché si va a lavorare su MapReduce. Quindi io vado a mappare il numero di macchine che ho a disposizione a seconda ovviamente dell'idrologia del bacino. E poi, una volta che mi ritorno negli altri dati, vado a metterli insieme. Quindi questo è tutto un altro discorso. Al momento, come funziona è che si lanciano una serie di thread che ovviamente partono da punti diversi della rete. Ok? Di conseguenza, sì certo, quando arrivano a un punto che è seriale abbiamo il nostro thread che lancia tutte le cose in modo seriale. Nel frattempo ci sono tutti gli altri che vanno avanti. Quindi il vantaggio rispetto a un albero, in questo specifico caso, è più di flessibilità di modellizzazione che da un punto di vista computazionale. Eh, però la flessibilità si la puoi anche avere in altri tipi di modelli, cioè... Sì, però un albero ti permette ovviamente da due figli, da due o tre figli, di avere un padre solo. Ok? Se io invece ne voglio avere due, perché voglio studiare una determinata opera di presa? Come faccio? Il graffo è l'unico modo? E per come è stato implementato il graffo? Possiamo implementare un nodo, ok? E questa è la cosa che mi aveva guidato. implementare un nodo per decisamente studiare solo l'opera di presa e poi via via la parte di tutta la canalizzazione di mini-hydropower. Quindi questo è più il graffo rispetto a un albero. Non è tanto da un punto di vista computazionale, di tempo computazionale, ma di flessibilità. Ok, questo sì. Però a un certo punto facevi anche menzione comunque di tempo computazionale, paralizzazione implicita, quindi... Sì, sì. Però non ho fatto il punto di vista pronto. Ok. È interessante. Sicuramente lo devo fare. Però al momento vedo più un vantaggio modellistico che di flessibilità, perché poi ci permette di fare quello che è stato fatto qua, in questo caso qua, dove si possono mescolare modelli e ci si dimentica... Sì, sì, ma mi era chiarissimo il vantaggio dal punto di vista, diciamo, del mettere insieme gli oggetti per creare modelli complessi con linguaggi diversi. Questo mi era assolutamente chiaro. Era la parte sulla scalabilità che era... Di per sé puoi fare anche crowd simulating, nel senso che siccome puoi attaccare i pezzi insieme, lo possono fare anche due persone separate e dopo si può mettere insieme. Sì, ma poi proprio questo è il bello, la flessibilità. La scelta di un grafo piuttosto che un albero è stata solamente basata sul flessibilità. Solo quello. Poi, decisamente, la parallelizzazione non è semplice, soprattutto per me che non ho. Quindi studierò per cercare di renderla più efficiente possibile. Questo è certo. E magari far confronti con un albero piuttosto che con un grafo. Sì. Sì, in realtà, ci posso fare un commento. Si potrebbe agire anche sulle parti seriali perché c'è un metodo di parallelizzazione sulle parti seriali che è il piping. Cioè, tu fai partire uno ad un time step, poi quando una cosa rilascia alla parte sequenziale, riparte con il time step successivo in contemporanea. Però questo naturalmente aumenta la... ma insomma lo dice lui. Ma oltre alla complessità dipende anche dal sistema su cui si sta lavorando. Perché OMS non gestisce le cose in quel modo di conseguenza. Bisogna sempre... quando si parte con un software da zero, si pensa alle cose che si vogliono mettere lì, si disegna e si fa. Quando si sta integrando qualcosa in qualcosa di già esistente, bisogna entrare nel punto di piedi, rispettare quello che c'è, cercare di capire come inserire le cose e poi farlo. perché, ad esempio, OMS è basato sulla reflection, su java reflection. Quindi, prende... Che devi spiegare che cos'è. Prende il jav file, praticamente, e trasferisce le cose annotando le variabili. Quindi, va a prendere variabili e programmi solo con le annotazioni. Ok? Ed è l'unica cosa che sa della componente, non sa altro. Cioè il codice si legge se stesso in pratica. Il codice legge se stesso. Quindi, anche per me che non sappiamo cosa fosse questa reflection, insomma, arrivare lì e cercare di capire come utilizzarla senza, insomma, arrivare con il macete e fare tavola rasa, insomma, è stato difficile. Marco? Sì, avrei una domanda che è più generale, prima di arrivare a queste cose che mi sembrano molto interessanti. Riguardo la tua valutazione del tuo stesso lavoro. Volevo che commentassi e riflettessi, facendoci capire meglio, qual è la parte che tu ritieni più importante e originale di quanto hai svolto e di ci hai presentato oggi. Per dirla, per chiarire il termine della domanda, rispetto all'elenco di articoli che sono un po' fatti, un po' infieri, perché altri ricercatori dovrebbero citare o citeranno il tuo lavoro? Quali sono le cose che tu hai contribuito attraverso questo tuo lavoro? Quindi, ecco, chi citerà e perché le chiudere? Beh, è una domanda sicuramente difficile. Siamo qua per... Per mettere in difficoltà. No, 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 tutto quanto. Non è per mettere in difficoltà, è per mettere in difficoltà meglio, perché non intendendomi di paralizzazioni, di scalabilità e quant'altro, vorrei che capissimo insieme il portato di quel che tu ci hai mostrato. Allora, Net3... Il tuo lavoro che hai fatto e che si vede benissimo. Certo, certo. Non prenderla come una critica a tutt'altro. No, 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 era una botta anche la mia. Ma l'idea di Net3 sicuramente è quella... è partita dall'analogia con la rete fluviale e il grafo. È partita da quella analogia lì. Quindi l'idea sarebbe ovviamente di avere idrologi che lavorano su questo tipo di struttura dati, questo tipo di framework. Però prima con Daniele, poi con quest'altro tipo di soluzione modellistica sarebbe bello che come un framework OMS è nato per inizialmente soluzioni modellistiche che venga utilizzato per chiunque modellista abbia in mente un match tra grafi e la sua soluzione modellistica. Per quanto riguarda invece i modelli surrogati mi viene in mente un esempio di... magari c'è bisogno di far funzionare un modello in un ambiente web-based. aspettare magari 10 minuti che il modello dà la risposta per poi magari utilizzare un 10% del modello a una parita di tempo. Di conseguenza sarebbe bello creare un modello surrogato per emulare quella parte del modello lì solo, avere una soluzione ovviamente non perfetta rispetto al modello ma accurata, abbastanza accurata per dare una risposta veloce perché soprattutto per quanto riguarda web-based, ambienti web-based si vuole avere una risposta subito. In conseguenza facilitare questa cosa. Chi può citare questo? che è un sinonimo per chi costruisce con gli strumenti che tu hai creato. Alla fine tu hai citato nella tua tesi giustamente tutti gli elementi che servono a chiarire quel che tu hai usato poi per costruire questa struttura. quindi chi userà questi trattori? Sono disponibili? Si, si, certo. E adesso tu citi in maniera un po' astratta i service provider in qualche misura, no? Quindi è ragionevole pensare che qualcuno nel concreto che tu hai in mente potrà usare questi strumenti? A quali provider pensiamo? A quali service provider pensiamo? A breve termine non avrai idea. 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 I padomani. Potrei dare una visione io perché non so quanti in sala si ha una conoscenza del fatto che sono stato anche revisore della prima versione della tesi dove avevo espresso diciamo un punto di vista un pochino con i piedi per terra rispetto alla modalità di utilizzazione del modello surrogato. In effetti rileggendo e ripensando a questo impianto indubbiamente si rileva che la fisionomia di questo lavoro è abbastanza diversa da quella dei lavori a cui siamo abituati. Forse è più vicina a quella del mondo della fisica o dell'informatica dove non è cruciale identificare il target su cui utilizzare ma diciamo si vuole comunicare una visione che deve essere il più possibile insomma comunicata in modo corretto il che è difficile e poi lasciare magari ad altri dire vabbè vedete voi no cosa potete farle e in realtà appunto rileggendo e riesaminando il tutto sono in grado di correggere il mio punto di vista allora io dicevo i modelli surrogati dovrebbero fondamentalmente dimostrare di funzionare bene con i dati però di fatto è anche vero che ci sono e ci saranno sempre più applicazioni nelle quali soggetti che non sono quelli che hanno sviluppato un modello per esempio i modelli meteorologici e i modelli climatici di più ancora il modello climatico è materia per diciamo iniziati per apprendisti stregoni nel senso che oggi come oggi ci vengono comunicati i risultati del modello climatico ma è difficilissimo metterci le mani intravedo sulla realizzazione dei modelli climatici quelli che insomma propongono gli scenari futuri del clima delle applicazioni interessanti del surrogato per coloro che volessero farsi un'idea magari locale di ciò che il modello climatico propone senza né poterci mettere le mani e né doverci mettere le mani e quindi così è trovo veramente interessante uno spunto di contributo che adesso è in un ambito idrologico potrebbe essere in un altro ambito ma che effettivamente è in grado di insegnare qualcosa in un campo in cui oggettivamente noi ci siamo sempre affidati a esperti della serie a me non interessa tu come fai l'algoritmo io ti dico qual è il fenomeno da modellare guarda tu e cerca di farlo anche veloce adesso tu ci porti un po' dentro a dire guarda che si potrebbe fare così insomma ragionandoci su effettivamente trovo spunti veramente promettenti e concordo pienamente perché in ambito meteorologico c'è tanto anche in letteratura soprattutto dal punto di vista di modelli ibridi quindi per velocizzare la computazione perché soprattutto i modelli meteorologici sono molto lungi cercano di sostituire alcune componenti con surrogati quindi c'è tanto anche da quel punto di vista lì proprio in ambiente meteorologico ma quindi tu per esempio anche se parliamo dei modelli come saranno i modelli idrologici fra dieci anni tu prevedi che per esempio ci sia un'ibridizzazione tra modelli di tipo chiamiamolo meccanicistico e modelli di tipo machine learning oppure no? perché no? ovviamente non posso dire sì sicuramente un po' difficile però perché no? sì in alcune parti soprattutto dipende il discorso è che dipende sempre dall'obiettivo che si vuole fare perché se si sta studiando un determinato a mio avviso si sta studiando un determinato fenomeno non si vuole avere la certezza completa di ogni parte del fenomeno non si può ricorrere a un modello surrogato ovviamente ma se il modello surrogato va a sostituire una parte computazionalmente impegnativa ma anche solo una parte transitoria è perfetto perché dà un'accuratezza magari sufficiente per snellire io penso così ma infatti secondo me è stata più convincente l'applicazione presentata su Rusle rispetto a quella del modello idrologico perché su Rusle di fatto tu hai fatto in qualche modo un'analisi hai ridotto lo spazio dei parametri in ingresso e hai una variabile target e quindi in qualche modo pertorbando lo stato puoi fare analisi di certezza, redaction complexity l'altro è un po' meno convincente perché di fatto per fare il training del modello hai bisogno di tutte le variabili di stato hai bisogno della P, della T, della neve quindi di fatto ognuno di quelli ha bisogno che il modello venga sempre lanciato con tutte le sue connessioni con i database, le frazzate e quant'altro quindi lì il fatto che possa sostituire completamente un modello idrologico completo non lo vedo perché tu hai sempre bisogno sotto di un surrogato e tra l'altro, un ultimo commento se cambi qualcosa nel tuo caso studio cambiano le condizioni al contorno per fare un'analisi design, uno scenario hai bisogno di comunque rifare tutto il run tutto il learning quindi lo vedo promettente proprio nella liberalizzazione di alcune componenti in cui tu leghi gli input e gli output e ti dimentichi di andare a risolvere in dettaglio alcune componenti se hai bisogno di avere tutta la neve tutto il groundwater vuol dire che di fatto hai bisogno di processi il che vuol dire che hai bisogno del modello stesso volevo che commentassi anche su questo no, certo, allora, la semplificazione in quel caso lì è che da dati completamente distribuiti ok, abbiamo utilizzato un solo valore però però hai bisogno del modello per generarlo ogni volta se è temporale te la deve dare il modello perché la media te la deve dare il modello la media di IP, la media di GV la media di nero e quindi di fatto tu non ti sei distaccato dal modello in quel caso lì è l'applicazione nel senso che se si ha bisogno ad esempio penso a monitorare la portata in un determinato punto del vaccino e si preparano un modello surrogato per avere risposte immediate con un numero inferiore di dati ok, si ha la risposta immediata invece di lanciare il modello ok, per quello specifico caso quindi conoscendo lo stato attuale io però devo certo conoscere lo stato attuale o simulare o utilizzare dati cioè io questa cosa qui per bypassare completamente i modelli lo vedo o nell'analisi di incertezza nella sistemica parametrica o nello short term sostanzialmente almeno questa è l'impressione che io ho ottenuto perché il problema in questo caso se non sono d'accordissimo il problema in questo caso è che bisogna dire qual è lo stato del sistema quindi io devo dire quanta acqua c'è nel mio vaccino non posso, le reti neurali non hanno memoria da questo punto di vista quindi devo assolutamente dire qual è la quantità di acqua e da lì partire con la confusazione sì, certo senza dubbio ma da questo punto di vista evidentemente questa conversazione che già avete avuto è una fase precedente di questo processo di stesura della tesi ma leggendo appunto la tesi è chiaro che la domanda che viene ovvia vorrei che magari ripetessimo parte di questa discussione che avete già avuto con il professor Klapps uno si chieda perché cerchiamo di modellare il modello e non di modellare in alcuni casi mi è chiaro perché ma perché allora visto che il vantaggio è su su questa stilizzazione dei processi e di stabilire di fatto una relazione tra input e output arbitrariamente non lineare perché non c'è una parte in cui si è valutato quanto bene andasse questo approccio nel mettere in relazione appunto input e output perché alla fine io vedo molti grafici in cui si confrontano le risposte del modello fisico concettualmente basato e della sua controparte ridotta diciamo ma nel confronto con le osservazioni aggiungiamo solo incertezza perché di fatto se io ho uno scatter tra il semplificato e il modello intero questa può essere vista come un'ulteriore incertezza nella determinazione della risposta del sistema reale ma magari no, magari invece no magari è il modello complicato che fa confusione sono d'accordissimo su questo infatti il professor Klaps mi ha fatto questa nota sui commenti è sicuramente un punto importante perché la stessa osservazione è stata fatta di una conferenza il discorso è che è molto interessante però si aprono una serie di problemi come overfitting per quanto riguarda il machine learning se si inseriscono per lo stesso tipo di input sia l'output del modello che l'output reale e lascia stare il modello buttalo via il modello non diminta che di nemmeno lavorano solo sui dati cioè confronto con la realtà invece che con la nostra rappresentazione della realtà questo dico è una cosa che non ho pensato, non ho avuto il tempo di pensarci è sicuramente un punto interessante è sicuramente un ottimo spunto sul quale mi piacerebbe investigare un po' al momento non c'è ancora pensato perché avuto in vista tu dici no? c'è tutto un ragionamento sul i modelli aumentano la loro complessità e quindi alla fine sfuggono la loro complessità crescita tanto che sfugge addirittura a chi in realtà poi li usa perché sappiamo bene se andiamo a guardare Giotop per esempio ci sono i contributi di persone diverse ma ancora più se andiamo a guardare i modelli climatici globali non c'è una persona che lo ha sviluppato chiunque lo sta usando in un certo momento non ha una percezione chiarissima di cosa succede in diverse parti quindi a quel punto il vantaggio potrebbe essere di dire vabbè sta esplodendo la complessità del modello perché non mi metto in relazione direttamente con i dati se io sono un service provider che non vuole fare ricerca ma vuole dare una risposta mi confronto direttamente con la realtà certo questo è un aspetto che forse potrebbe essere sviluppato sicuramente perché ci fidiamo di più dei modelli che dei dati? a volte sì i modelli ti aiutano a capire la qualità dei dati questo è sicuro però anche questo tipo di modelli magari no? magari identificano l'impossibilità di mettere in relazione certi input con certi output magari qualcosa non va nel modo che sono stati misurati o gli uni o gli altri per esempio no? sì posso dire Galileo questo sconosciuto da questo punto di vista sì io volevo chiederti un'altra cosa se posso che è legata alle reti neurali ho cominciato a guardare un po' queste cose anch'io leggendo, giochiando qua e là e ci sono alcune cose che non ho capito bene quindi volevo magari provare a commentarle con te per vedere se tu le avevi approfondite la prima cosa riguarda la struttura delle reti neurali sono semplicemente se uno va proprio all'osso c'è una trasformazione lineare non lineare scusami una trasformazione non lineare che poi trasforma il dato in ingresso sui neuroni in ingresso li trasforma in un modo per cui dopo puoi applicare sostanzialmente una regressione questo è proprio all'osso quello che fanno sì e traggono il vantaggio dal fatto che queste operazioni sono fatte su molti neuroni quindi solitamente penso siano quelli che hai usato tu c'è uno strato nascosto che è quello che fa questa operazione e viene distribuito su molti neuroni adesso stanno tentando anche di fare modelli in cui inventano molti strati nascosti e pochi neuroni che chiamano in modo molto aulico deep learning ma sostanzialmente siamo sempre lì il problema su questa cosa che io vedo ho due dubbi su queste cose qua il primo è che nelle applicazioni idrologiche che ho visto chi ha fatto le applicazioni ha sostanzialmente preso le strutture e le funzioni non lineari di trasformazione sviluppate in altri ambiti non ha pensato a delle trasformazioni che vadano bene o che siano ottimizzate per le nostre applicazioni quindi questo potrebbe già essere un punto su cui ragionare forse la seconda questione è che le applicazioni dove hanno sviluppato queste tecnologie sono applicazioni abbastanza diverse dalle nostre sono applicazioni nelle quali c'è una ridondanza di informazione l'informazione è enorme e l'azione è relativamente semplice da fare noi siamo spesso nella situazione opposta cioè siamo in una situazione in cui abbiamo l'informazione spesso carente e affetta dall'incertezza tanto che Riccardo dice che si chiediamo più dei modelli che non dei dati mentre le azioni richieste sono complesse quindi questo è un settore estremamente interessante però forse va adattato meglio ai processi che studiamo questo potrebbe essere un ambito di ricerca anche abbastanza importante e ampio volevo capire cosa ne pensi se hai osservato queste critiche che io faccio al metodo sono legate semplicemente a una mia percezione distorta o non corretta di questi modelli oppure se c'è qualcosa di vero in quello che dico perché io non sono sicuro te lo dico perché non sono sicuro perché se fossi sicuro non ti avrei detto niente non avrei fatto un'altra no 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 chiaro allora per quanto riguarda le funzioni ok non lineari di trasformazione anch'io ho utilizzato una funzione standard che si chiama activation sigmoid la sigmoid è quella che usano tutti praticamente però gli ambiti di è leggermente diversa da quello lì perché il problema è il tipo di rete neurale che utilizzo se riesco a tornare indietro no? continuo qui si, per riportare un po' il problema, la questione è il tipo di reti che utilizzo perché quelle reti lì che siano deep, neural network o quant'altro hanno comunque una struttura ben definita nel senso è chi lavora che dice ok voglio un layer con quattro neuroni perché? o provo perché questo è il discorso faccio delle prove e poi scelgo la struttura esattamente noi da questo punto di vista io non voglio che l'agente debba fare queste scelte ed è qui che NEET, Neorevolution, ovviamente oggi entra in campo NEET quello che fa parte da questa connessione qua dopo aggiunge questo nodo dopo aggiunge questo lì quindi la struttura la struttura di per sé questo l'ho capito scusa se interagisco no ma la domanda non era no ho capito che tu ti sei occupato dell'infrastruttura il tuo obiettivo è l'infrastruttura ma mi chiedevo siccome il mio obiettivo è capire un po' meglio invece lo strumento base no? volevo capire se tu avevi colto qualcosa che confuta la mia impressione superficiale oppure che la conferma in qualche modo non ho fatto non hai investigato sulle diverse tipo di funzioni ad esempio perché NEET come sistema è nato con quel tipo di funzioni non ho avuto il tempo di cambiare non ho semplicemente avuto il tempo di provarlo sto seguendo un corso webinar su reti neurali applicate all'etrologia e c'è tantissimo materiale quindi devo studiare e cercare si no ma è stesso problema che io che nel primo momento ho letto un po' di cose però non ho ancora fatto applicazione e volevo capire se se appunto tu eri andato un po' più in profondità su queste cose dal punto di vista no oltre al fatto che si per quanto riguarda il fatto che dal punto di vista idrologico dobbiamo rispondere a un sacco di domande si sono d'accordissimo infatti è per questo che l'idea del modello surrogato è quello di prendere un processo e rispondere a quella domanda lì per chiudere la mia opinione è che sulla questione detta prima è che i modelli ibridi come li avete chiamati prima io penso magari sarò smettito ma penso che abbiano un futuro perché in qualche modo mettono insieme due mondi che sono andati in direzioni sono nati in maniera diversa in ambiti diversi che hanno anche sviluppato le cose in maniera diversa ci sono vantaggi quindi avere la capacità di mettere assieme probabilmente l'idea iniziale era quella di prendere in considerazione anche questa parte qua chiaramente è un lavoro enorme però si sono d'accordo in questo caso limito le cose perché non posso rispondere a tutte le domande per quanto riguarda i modelli ibridi credo ci sia futuro ok va bene grazie io ancora se posso una domanda un generale che è un commento un po' più tecnica quella generale che da questa discussione qui alla fine in qualche modo però mi sento un po' di contraddire una delle due conclusioni finali che è quella che in qualche modo si possa veramente costruire una struttura che sia adatta veramente alle organizzazioni cioè se cambia qualcosa nella condizione del contorno voglio fare una progettazione voglio cambiare qualcosa perché voglio testare un'alternativa progettuale oppure voglio andare a fare una predizione in un punto in cui non la misura di fatto devo comunque risultare il modello e devo rifare il training quindi in qualche modo l'organizzazione non può non passare da un'attività continua di consulenza verso l'idea cioè è vero che gli dai black box però non è che poi loro sono autonomi perché il training di questo non mi sembra banale e anche ogni volta che loro vogliono cambiare qualcosa devono venire da te quindi sono d'accordo ok può funzionare per loro perché loro non vogliono ma devono comunque venire sempre da te a chiederti la consulenza su questo ok questo non era chiarissimo è più un commento molto generale invece un altro molto tecnico volevo insomma sei d'accordo su questa conclusione che ho detto? si decisamente nel senso che se cambiano le condizioni quindi in qualche modo non è che proprio user friendly dire ti do il black box facci quello che vuoi e sei a posto per sempre no? no ok l'altra cosa è tecnica di fatto tu hai parlato di incertezza epistemica sostanzialmente cioè tu puoi avere multiple combinazioni delle reti neurali e quindi avere un ensemble che non è parametrico ma è legato alla struttura del modello tipicamente definizione di incertezza epistemica però il modo in cui tu lo trovi è un algoritmo evoluzionario tipicamente almeno quelli che conoscono l'ideologia hanno problemi in questo caso sono bravissimi a trovare l'optimum però poi tendono a clasterizzarsi cioè tendono a trovare tantissime soluzioni che sono vicine all'optimum e quindi in qualche modo c'è il rischio che tutte le reti neurali siano molto simili fra di loro questo si chiama clustering e quindi l'incertezza predittiva è in qualche modo inflazionata nel senso che hai tutte quelle randi che sono lì vicino e quindi non è una vera incertezza epistemica allora mi chiedevo se avreste considerato questo aspetto se è possibile che sia così effettivamente nell'optimum evoluzionario allora questo è un problema tipico anche in etnologia certo questa è un'ottima osservazione no, devo essere sincero non l'ho considerato questo problema ho sicuramente analizzato le reti per vedere se c'erano effettivamente differenze non i pesi ok le connessioni però soprattutto per certi problemi si varia da un numero di neuroni che va da 29 neuroni interni siamo già nel keep neural network a 48-50 c'è una grossa differenza perché comunque il training è fatto anche su dati leggermente diversi ok quindi perturbato dei dati cioè è cambiato non è l'unico setup non è l'unico setup perturbo anche i dati ok ed è questo il bello dell'esempio perché appunto in questo modo il training validation non è fisso ogni volta preparo una rete con due subset diversi in questo modo il training della parte di validation viene utilizzata ok questo è un modo un po' diciamo non perfettamente clean trasferire l'incertezza legata al periodo di calibrazione nella struttura concettuale del modello però ok è una sorgente di ok per me io non ho ok per me siamo tutti grazie Francesco grazie a voi grazie grazie grazie